hai delle ciabatte? hai delle ciabatte? ma non puoi stare con delle ciabatte in casa metti che c'è un'emergenza arriva l'idraulico il giardiniere o la vicina dispettosa che ti spia dalla finestra no no qua dobbiamo porre rimedio ti do una mano io vai sul sito alessandroteri.com e scegli la tua décolleté preferita al resto ci penso io e quando sarai comodo sul divano con la tua scarpetta nuova che cosa desidererai? un bicchiere di vino bene quello te lo offro io anzi no te lo offre la cantina Rottensteiner inserendo il codice black wine durante l'acquisto della scarpa i vini vedrai hanno un'etichetta che è binata esattamente alla scarpa che hai scelto quindi 20% di sconto la bottiglia di vino di queste scarpe ne vengono prodotte soltanto 15 paia per ogni modello anzi di questa qua blu ce ne sono soltanto 13 amica dal 23 al 29 di novembre black friday non ti temo 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 black friday non ti temo